Ragazza bravissima a cantare, ha vinto un amice. Ma quanti anni sono passati? Parlo di... 14 anni. No, 10, 12. Tu dove lo sentivi cantare? Al poeto, quando c'erano i chioschetti. Aveva la magliettina del Brasile, non lo ricordo ancora. Cantava a piedi nudi, scalza al chiosco. Cantava a piedi nudi con la magliettina del Brasile. Il giorno cantò una canzone di Alex Barone. Quale? Cambiare. Bellissimo. Era quella, sì. Di dove sei? Io so portoghese. Portoghese? Sì, sì. E io sono di qua, di Cagliari. Tu sei di Cagliari. E lui è svizzero. Svizzero? È nato in Svizzera. No, svizzero, italiane, portoghese. Eh, bravo. Tre nazionali, tre nazioni, eh? Ah, tre nazioni. Direi. A te cosa va dire 이 Bambi, tu è un modo super che l'esercito di Cagliari. E poi, che vediamo solo. Ma che cosa serve. Ma che cosa diventa là quella che si tratta